Ok, ciao ragazzi, è arrivato il pacchettino, penso proprio di sapere che cos'è e comunque l'avete già letto in firma Passiamo, dai, all'apertura della scatola Huawei P Smart Z E questo qui è 64GB, 4GB di RAM, quindi il telefono con la fotocamera a pop-up Best Buy, comunque un medio di gamma, con la fotocamera a pop-up Passiamo all'apertura della scatola Eccolo qua, bello, accattivante E la cosa che voglio vedere, la prima cosa che voglio vedere è questa fotocamera a pop-up appunto di Huawei P Smart Z Comunque, nella scatola troviamo la clip per aprirlo, per metterla nella scheda SD Le istruzioni, le guida e il d'uso Connettore di ricarica, quindi, che è una Type-C Chiaramente la nostra presa europea-italiana per andare sullo specifico E le cuffie, quindi ha ancora il buco per i jack Eccoci qua con il P Smart Z Un telefono appunto medio di gamma, molto interessante e corposo in mano e a un certo punto Questo è un Redmi Note 5 Come vedete le dimensioni sono più o meno uguali Adesso, a parte che questo è borderless completo, quindi senza notch né altro Si assomigliano come dimensioni abbastanza e anche sul retro, come potete vedere Comunque, lo schermo è un 6.59 in orizzontale E all'interno troviamo un 8-core da 2 giga È la versione da 4 giga di RAM, 4.000 mAh di batteria e 64 di spazio di archiviazione Oltretutto è un dual sim, però non è un dual sim che potete mettere la doppia scheda Se mettete la scheda non potete mettere la scheda di memoria Fotocamera da 16 megapixel, quindi una buona fotocamera Registra video in Full HD, peculiarità 60 fps Quindi con una buonissima definizione per un medio di gamma Fotocamera frontale appunto è da 16 megapixel A pop-up, quindi esce quando la state utilizzando Che bello che sono, con la maglietta della showmeetoday.it E questa è un'altra cosa molto particolare di questo telefono Ovviamente è un unboxing veloce In italiano per i nostri, adesso lo provo un po' E poi vi dico le sue caratteristiche nello specifico Quindi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!